La Puglia, al centro di un percorso partecipato nel segno dello sviluppo sostenibile, inizia da Bari il forum regionale di sviluppo sostenibile organizzato dall'assessorato all'ambiente che mira a tracciare la strada che porterà a raggiungere gli obiettivi dell'agenda ONU 2030. Obiettivo del forum è coinvolgere la società civile nella definizione di una strategia complessiva che dovrà rappresentare un percorso di scelta responsabile verso le prossime generazioni. Cambiando la visione di governo del territorio è l'alveo entro cui tutte le forze e le azioni che andranno ad incidere sulla vita delle persone e sui bisogni primari di ciascun individuo dovranno concentrarsi. Quando parliamo di sviluppo sostenibile, in questo momento in cui siamo chiamati tutti ad avere un ruolo di responsabilità, quindi non soltanto la politica ma anche la società civile. Il forum è l'inizio di un percorso che sarà un percorso importante al quale parteciperanno già, ho avuto molte adesioni e sono davvero felice di questo, parteciperanno tutti coloro i quali avranno la possibilità e la voglia appunto di costruire insieme, di dare un contributo per la costruzione delle nuove politiche regionali, delle politiche di questo momento, sviluppo sostenibile. Quando parliamo di sviluppo sostenibile abbiamo in mente solo l'ambiente. L'ambiente sarà il centro delle politiche regionali, ma quando parliamo di sostenibilità dobbiamo anche immaginare una sostenibilità da un punto di vista sociale.